Bene, allora andiamo al Presidente del Consiglio, Tony Franco, prima di tutto, visto che parliamo col Presidente del Consiglio, parliamo proprio del Consiglio Comunale, so che la prossima settimana ci sarà un Consiglio Comunale che sarà mercoledì, è un'anteprima che vogliamo dare, ci sarà una convocazione del Consiglio Comunale, di un Consiglio Comunale importantissimo perché ormai siamo arrivati al redderrazione, dobbiamo rendere conto di quello che praticamente si è fatto per vedere o meno di sfuggire al dissesto finanziario. Ci vuole dire di che cosa si tratta e di cosa parlerà il Consiglio Comunale, Tony? Grazie anzitutto a Radio Cammarata per l'ospitalità e grazie ai cittadini che ci stanno seguendo. Il Consiglio Comunale di mercoledì chiuderà un percorso a tappe forzate che credo questo sì avrebbe forse meritato, ma non voglio dare suggerimenti ai giornalisti di questa città, avrebbe meritato un risalto e anche qualche pagina se non di livello nazionale almeno per farla conoscere un po' la nostra situazione a più persone di quelle che la vivono purtroppo sulla propria pelle nella nostra città. Il Consiglio Comunale di Cefalù nell'arco di tre mesi ha studiato, discusso e passato ai voti cinque bilanci fra la riapprovazione di conti consuntivi come quello del 2008 e del 2009, l'approvazione del conto consuntivo 2010, l'integrale trattazione del bilancio 2011 seppur in una veste sintetica e adesso il bilancio di previsione 2012 con la manovra correttiva che ci ha ordinato la Corte dei Conti. Quindi si chiude un percorso difficilissimo che è stato in tempi molto ristretti per il quale mi sento di ringraziare il lavoro dei singoli consiglieri comunali e quello della Commissione che si è potuto occupare anche soltanto marginalmente di queste problematiche perché per ovvi motivi procedurali d'urgenza la stragrande maggioranza del lavoro è stato fatto in aula e in questo devo dire con una maggiore ecumenicità e con un rapporto molto più costruttivo di quello che magari può apparire da interventi sui giornali o da effetti di quella visibilità che qualche volta è anche normale che nella politica si vada cercando. Mi riferisco anche all'intervento dei consigli del PDL che, lo mandiamo a dire anche al loro commissario provinciale, non hanno avuto in aula atteggiamenti così demolitori e distruttivi, sono stati anzi più volte inclini a un dibattito più che sereno e alcune volte hanno anche votato degli atti che si sono proposti in questi pochissimi mesi. Anche i consiglieri che hanno voluto fare, e ne erano legittimo farlo, una posizione più dura, più marcata, comunque hanno assicurato la trattazione di urgenza e hanno accettato il contingentamento dei tempi. Comprendendo che la situazione della nostra città è una situazione gravissima. Non ripeto quanto è stato detto dal Sindaco, ma il Consiglio Comunale è stato chiamato a assumere anche delle decisioni molto pesanti sul piano delle responsabilità, che sono quelle dell'approvazione di rendiconti finanziari o di interi bilanci che non appartenevano completamente a questa consigliatura. Quindi si è fatta carico anche dello studio e dell'approvazione o comunque della discussione di atti che erano stati prodotti in gran parte dalla gestione precedente. Il bilancio di previsione 2012, che andrà in discussione mercoledì, è il primo atto concreto appartenente a questa nuova consigliatura. È molto importante perché contiene quelle misure correttive che dovrebbero convincere, uso il condizionale ma uso anche il verbo della speranza. Dovrebbero convincere la Corte dei Conti per dare il via libera alla conclusione di questa operazione di risanamento. È chiaro che è un'operazione di risanamento, lo diceva prima il Sindaco, ma lo dico anche con parole mie perché ci tengo, di lacrime e sangue. Di lacrime perché la rabbia è tanta, non avendo buona parte dei cittadini e certamente anche dei consiglieri comunali e anche degli amministratori, nessuna responsabilità, se vogliamo, neanche di carattere politico per aver sostenuto o votato le passate amministrazioni. La rabbia quindi è tanta perché ci si trova davanti a una situazione devastata che era già stata ampiamente annunziata, lo diceva poco fa il Sindaco, da quella famosa relazione parlante del 2008 che credo ogni cittadino di Cefalu dovrebbe avere a casa perché sarebbe importante leggerla e rileggerla e poter così rispondere a chi cerca di manipolare il passato della nostra città. Cefalu ha sempre bisogno di un poco di infusione di memoria perché ha la memoria piuttosto corta come collettività. Certamente è un Consiglio comunale che si è fatto carico di scelte molto dure da accettare per i cittadini e io lo dico pubblicamente, forse ho una impostazione un po' meno istituzionale perché il Sindaco è il Sindaco della città, io sono il Presidente del Consiglio comunale, però tante volte guardo criticamente anche e in una maniera forse più disinibita anche alle nostre cariche istituzionali. Sarebbe veramente un atto importante da parte anche delle figure istituzionali di questo Paese lanciare dei segnali di criticità e di protesta nei confronti di un Governo nazionale che non è stato capace di comprendere non la situazione finanziaria del nostro Paese perché dall'alto della loro autorevolezza e delle loro competenze il Governo nazionale sicuramente ha compreso le criticità di questo Paese, ma non ha compreso la situazione reale del Paese più profondo, cioè del Paese che è costituito dalla base dei cittadini che si trovano in situazioni di gravi difficoltà e a mio avviso, è un'opinione personale ma credo che sia condivisa da tanta gente, non hanno impostato il risanamento sul piano della gradualità, obbligando la parte più larga del Paese, ma anche quella che possiede meno, a farsi carico di un risanamento del Paese che a mio giudizio invece doveva partire dai ceti più alti, da quelli che possedevano di più e da un'impostazione veramente graduale sia della tassazione sia anche di quella richiesta di responsabilità e di un cambiamento persino dello stile di vita. Perché quello che oggi fa rabbia anche a Cefalu è il fatto che ci si faccia carico di cose come l'Imu, da parte di cittadini che hanno magari la seconda casa perché appartiene di famiglia o è costituita la loro casetta in campagna e paghino quello che hai detto tu poco fa, cioè oltre 1000 euro di seconda errata, una mazzata per una semplice economia domestica basata magari su uno stipendio o su anche due stipendi ma con figli e che invece, devo dire la verità, si sentono qualche volta anche delle voci abbastanza dissonanti da parte di chi ha vissuto in questi anni da un ma anche nel guadagno. Questo io lo dico perché tutti quanti ci dobbiamo far carico della crisi, non soltanto quei cittadini che oggi pagano al 4 per 1000 la prima casa ma pagano al 10,6 per 1000 una seconda casa che magari può essere il frutto di tanti e tanti sacrifici. Se mi fai concludere questa prima battuta ti dico è chiaro che tutte le risorse di Cefalù vanno protette. Per chi governa Cefalù i commercianti, gli albergatori, sono delle risorse. Noi abbiamo delle straordinarie risorse umane e delle persone che sanno fare veramente il loro lavoro. Vanno protette sicuramente e noi saremmo certamente a capo di un segnale, di una protesta. Però dobbiamo anche renderci conto che tutti quanti dobbiamo contribuire a questo momento difficile del nostro paese, della nostra città di Cefalù. E dopo che avremo messo in ordine i conti della nostra città avremo autorevolezza e voce per poter dire anche a chi sta sopra di noi che non si lavora così sul piano dell'amministrazione e dell'imposizione finanziaria. Perché è certamente difficile per tutti quanti portare avanti quelle che sono le aspettative, i sogni, i progetti che abbiamo sul nostro futuro e soprattutto sul futuro dei nostri figli e delle future generazioni. Bene, Tony, tu ormai hai fatto un quadro generale di tutta questa situazione e del prossimo bilancio comunale che verrà a disposizione. Ti voglio dire una cosa anche più. Noi abbiamo due punti molto importanti che sono la trattazione del debito parlato arriva finalmente in comune dopo, dal 1998, quindi sono 14 anni, dopo una serie di cause, sentenze e cose del genere, arriva il famoso debito volo trattino parlato, cioè la famosa causa venuta fuori dall'espropriazione ritenuta in debito da parte del giudice dei terreni relativi alla costruzione dell'ospedale. Una causa che è molto consistente, un debito che è molto consistente e che è stato oggetto anche di una trattativa fra il comune e appunto coloro che hanno avuto la sentenza favorevole e che mette un punto su una lunghissima vicenda controversa che ha opposto il comune a dei privati. E poi c'è l'adesione da parte del comune di Cefalù a un'iniziativa che porterà un po' di risorse tramite un progetto regionale che si chiama GAC, Gruppo di Azione Costiera, che permetterà di far attingere a una serie di risorse residue fra i fondi che erano arrivati da livello europeo alla regione, su dei progetti di valorizzazione della pesca e di attività costiere, cioè di attività per esempio di pescaturismo o di altre attività anche di carattere gastronomico, alberghiero e cose del genere. Siccome siamo in tanti i paesi partecipanti non è che ci toccherà chissà quale risorsa, però almeno qualcosina arriverà. E poi c'è una proposta da parte di un gruppo di consiglieri, dei capogruppi di maggioranza, di un adeguamento, ora suscitiamo sicuramente l'ira di qualcuno, di un adeguamento, ovviamente quando si parla di adeguamento è una parola buona per dire aumento, di un aumento della COSAP, cioè della Tariffa di Occupazione del Suolo Pubblico. Questo ne avevamo sentito parlare già qualche giorno fa dal sindaco, in qualche altra occasione forse nel Cominizio che lui ne ha parlato, e anche il Consiglio Comunale, non sono cose che facciamo ancora in giro. Va bene. Grazie.